Benvenuti in questo bellissimo contesto, ringraziamo famiglie di Brisco per questa opportunità in contesto meraviglioso, auguro a tutti quanti bellissima competizione per oggi un buon ballo, una buona qualità e vinca migliore Io sono Erminia Gambarelli, lavoro al Cairo nel mondo della danza e sono molto orgogliosa di essere in questo fantastico contesto dove la danza avrà tutto il suo potere di mostrare come è un legame tra tutte le culture perciò buona fortuna, vinca il migliore in bocca al lupo Buongiorno a tutti, Pietro Froyo da Milano Mama Studios come ho detto ieri spero di trovarmi in difficoltà a poter scegliere il migliore questo deve essere l'idea, divertitevi e buona fortuna a tutti E io non voglio essere ripetitivo, buongiorno a tutti e faccio un grande in bocca al lupo a tutti Grazie Grazie Grazie